Il sindaco di Giallo e Angelo Danna ieri a seguito della positività al covid di un dipendente comunale all'esito di un test rapido mediante apposita ordinanza sindacale ha decretato la chiusura del municipio di via Calipoli e degli uffici decentrati dell'ente comunale salvo i servizi che normalmente esplitano l'attività anche nelle giornate di sabato e festivi e i cimiteri comunali di Tre Punti e di San Giovanni Montebello che saranno regolarmente aperti secondo il normale orario di servizio il tutto al fine di effettuare la disinfezione e la pulizia straordinaria di tutti i locali comunali operazioni che hanno preso in via questa mattina. Stamane infatti sono scattate le operazioni di bonifica nei locali del palazzo comunale di via Federico II di Svevia dislocate su tre piani all'interno degli uffici magazzini locali del cimitero di Tre Punti. Tutte le sedi comunali comunque come dicevamo riapriranno il prossimo lunedì. E questo pomeriggio alle 15 d'intesa con l'aspe di Catania è stata programmata l'esecuzione dei cosiddetti tamponi drive-in all'interno dell'area perimetrale del palazzo comunale di via Federico II di Svevia. Le operazioni si sono svolte con la massima regolarità, 200 indipendenti comunali dovranno effettuare il test molecolare in due fasi, 100 per volta. Le operazioni sono andate avanti per tutto il pomeriggio e proseguiranno anche nella giornata di domani sabato.